Zanetti, un ritorno in cattolica, i valori dello sport, quale miglior testimonial? Record, vincente, rispettato da tutti, qual è il segreto? Qual è stato il segreto e qual è tuttora, visto che è una stima che è ancora immutata? Questo mi fa sicuramente un enorme piacere, poter avere la stima di tante persone, ho sempre voluto comportarmi in tale maniera che possa contribuire alle cose positive del sport che facevo e credo che non ci sono segreti, uno questo lo deve sentire, ho sempre avuto tanto rispetto per i miei compagni, per i miei colleghi, per tutte le persone che frequentavo e continuerò a farlo, io credo che attraverso lo sport se possono fare tante cose in positivo e credo che io posso essere una testimonianza. Milano 2015 vuol dire Expo, anche te sei già in prima linea, la partita, il match per Expo, ci vuoi raccontare? Sì, questo è un evento molto importante perché volevo fare qualcosa a San Siro con tanti amici, poter coinvolgere tutti i grandi glorie che hanno vissuto tanti momenti sia con l'Inter, con il Milan e altri che hanno giocato in altre squadre, però soprattutto approfittando questo grande evenimento che sarà l'Expo dove Milano come città accoglierà tutto il mondo, fare qualcosa per questa città che la sento mia, questa partita soprattutto a fin benefico il ricavato andrà a tante associazioni che lavorano sul territorio, su Milano e credo che questa sia la cosa più importante. Ora sei in questa veste di vicepresidente dell'Inter, ora in questi giorni si è parlato un po' del ritorno di Moratti te ci credi che in questa cosa, come lo vedi in questa veste un po' in seconda linea e come ti trovi te in società? Io mi trovo bene, sono soprattutto molto orgoglioso di essere vicepresidente di questa grande famiglia ringrazio la nuova proprietà che mi ha dato questa possibilità e Moratti lo vedo come sempre dentro, non deve tornare perché lui è dentro con noi insieme a Toiri e a tutto un gruppo di lavoro vogliamo contribuire per far tornare all'Inter a essere competitiva e credo che ci stiamo lavorando Ora arriva il derby, un momento particolare sia per l'Inter che per il Milan, un momento un po' difficile secondo te che partita sarà? Una partita speciale perché il derby sempre regala delle emozioni molto speciali sarà un derby molto equilibrato però credo che tutte e due le squadre si prepareranno al meglio per vincerla una città che aspetta questo grande evento, questa grande partita e speriamo di poterlo vincere